Cristo risorto, buongiorno fratelli e sorelle carissimi. Anche oggi siamo qui per attingere forza dal Vangelo di oggi. Ricordo che questi servizi che stiamo facendo, come Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella e parrocchia di Strona, Veglio, Camandone e Calabiana, è stato iniziato qualche mese fa durante il lockdown del Covid. Un servizio che è molto importante per noi come Chiesa, per noi come cristiani e anche da parte mia come pastore. È sorta questa esigenza, necessità di trasmettere alle pecore che non potevo vedere, che non potevo raggiungere attraverso questi video, la parola di Dio. Per questo adesso si è stesa già da diversi mesi la possibilità su YouTube aperta a chiunque voglia vedere questi commenti. Grazie che ci seguite. Sono dei semplici commenti, lo ricordo, alla parola di Dio, che non pretendono di essere nulla di teologico, esegetico, ma un cammino spirituale, un cammino di fede per seguire Gesù nella semplicità. Ecco che oggi Matteo 12, 1 ci parla di Gesù insieme ai Suoi discepoli che in giorno di sabato tra campi di grano i Suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero, ecco i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro, non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare. Ma ai soli sacerdoti? O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa perché il figlio dell'uomo è signore del sabato. Amén. Carissimi, oggi in questo Vangelo abbiamo Gesù che insieme ai suoi discepoli porta la buona novella, porta la buona notizia e accade un fatto di una serie di quelli che accadranno di sabato. Sappiamo che il sabato, il contesto giudaico, era quel giorno per eccellenza, il giorno del riposo del Signore, giorno in cui secondo la legge bisognava compiere il menor numero di azioni, di opere proprio per riposarsi come Dio si era riposato al settimo giorno. Ma Gesù e Matteo è il nuovo Mosè. il nuovo Maestro, colui che dà una nuova legge, colui che apre gli occhi in particolar modo alle cristiane per i quali come destinatari è stato scritto questo Vangelo. Quindi persone che avevano bisogno di sapere che Gesù è venuto ad addempiere all'antica alleanza, ma anche per noi oggi aiuta molto nel nostro quotidiano. Ecco che Gesù di sabato cammina, passeggia, i suoi discepoli hanno fame, Gesù è cosciente che è sabato, chiaramente, e tra i campi di grano iniziano a prendere delle spighe e mangiarle. Sembra un po' le storielle tipo Pierino e i suoi amici che vanno a fare i dispetti agli altri a mangiare quello che non si può mangiare in quel giorno. E invece Gesù fa qualcosa di cui è cosciente e anzi approva i suoi discepoli, proprio perché sa che attraverso quel gesto, quel fatto, le persone avrebbero visto ciò che lui è venuto a portare, una nuova legge. Ecco che i farisei lo accusano dicendo perché state facendo quello che non è lecito fare nel giorno di sabato. E Gesù conclude dicendo non avete letto quello che è accaduto nella legge, quello che è stato fatto da parte di Davide con i suoi compagni nella casa di Dio, ma poi Gesù dice vi è uno più grande del Tempio. Misericordia io voglio è scritto e non sacrifici, perché il Filo dell'uomo è il Signore del sabato. Ecco che Gesù è venuto a portare una nuova alleanza, è venuto a portare un nuovo messaggio. Questo messaggio è valido anche per noi che non viviamo, non abbiamo vissuto ciò che i giudei, gli ebrei avevano vissuto di fronte anche a questo nuovo messia, questi scandali del sabato. Gesù è venuto a dire io sono più grande del Tempio. Gesù è venuto a ricordare che il principio, il fondamento della legge è la misericordia di Dio. Il fondamento non è il sacrificio umano, non è la legge, non è la prescrizione, non sono i decreti. Ci si attacca la legge, la prescrizione e i decreti spesso quando non c'è esperienza di Dio. Così è scritto, così si deve fare, non devi, non mangiare. Perché? Perché in effetti il popolo di Dio ancora non aveva affatto l'esperienza di Dio come quando l'ha fatta, quando Gesù si è incarnato, quando Gesù è venuto a noi. Dio si è fatto uomo. Ecco che Gesù rispolvera questo e fa capire ai Suoi discepoli, ma anche ai farisei, qui c'è qualcosa di nuovo. Io sono venuto per abolire una legge e portare la legge dello Spirito. Abolisco la legge della carne senza la quale non c'era giustizia e porto la legge dello Spirito Santo. Amen. E poi dice perché il figlio dell'uomo è Signore del sabato. In greco Kyrios. Questa parola che a ogni celebrazione eucaristica, nel Kyrie Eleison, la diciamo, la professiamo quando chiediamo al Signore Pietà, Signore ascoltaci. Ecco che questo Kyrios è ciò che oggi deve accompagnarci. Gesù è il Signore della tua vita. Gesù è il Signore del tuo cuore, del mio cuore. Oggi dobbiamo affidare a Lui la nostra vita. Dobbiamo affidare a Lui quello che noi facciamo e quindi guardare a Lui come un volto misericordioso. Misericordia. Quante volte anche nella storia della Chiesa ci siamo aggrappati come Chiesa più a precetti, prescrizioni, perché ci rendevano sicuri. Ma tutti noi, battezzati in Cristo, abbiamo bisogno della legge dello Spirito Santo. Così dice San Paolo ai Romani. La legge dello Spirito che dà libertà. E nella legge dello Spirito, in questa libertà, noi viviamo da cristiani liberi e non abbiamo bisogno che nessuno ci dica, vai a messa, rispetta, ama, perdona, rispetta quel precetto perché la legge dello Spirito è dentro di me. Allora ecco che oggi vogliamo accogliere Gesù come Chirios nostro. Quando lo accogliamo come nostro Signore, Signore del nostro cuore, la mia vita cambia. Quando noi dedichiamo ogni giorno dieci, venti minuti, mezz'ora, anche un'ora per stare con Lui alla Sua presenza. Il mio cuore cambia. E io sono parroco, quindi lo posso dire. Io non vado a rinfacciare ai miei parrocchiani perché non viene a messa, perché... Ma le dico, fai esperienza del Signore, prega il Signore, perché più noi preghiamo, più da soli andremo da Dio, verremo in Chiesa, pregheremo insieme come corpo, come comunità. E allora questa è la via e Gesù lo ha detto, misericordia io voglio e non sacrificio. E allora oggi apriamo il nostro cuore e gli chiediamo, Signore, vieni oggi con la Tua misericordia. Vieni oggi col Tuo amore nella mia vita. Io voglio seguirti non perché sono costretto, non perché così mi hanno insegnato, non per tradizione, non per ritualità, ma io Ti seguo perché Ti amo, Signore Gesù. Io Ti seguo perché Tu hai sedotto il mio cuore. Io Ti seguo, Signore, perché proclamo anche oggi che sei il Signore della mia vita, il Signore della mia casa, il Signore della mia famiglia. Senza di Te non ho alcun bene. O Dio, in Te solo trovo la mia forza, la mia gioia. E Tu, Gesù, sei il mio Kyrios, il mio Signore. Accompagnami oggi e che i miei occhi vedano il Tuo amore che è concreto, che si concretizza in tutto quello che faccio e che mi risponderà. A Te, o Gesù, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Buona giornata, carissimi. Un caro saluto da parte mia ai fratelli e sorelle consecrate dell'Oasi di Biella. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.